il film è in concorso in questa ventesima edizione lo abbiamo amato moltissimo il film e produzione iraniana regista iraniano e siamo molto felici questa sera di poterlo presentare a voi bene allora io partirei con una domanda su quello che è un po il tema portante del tuo film il tuo film è come un una sorta di romanzo di formazione e il viaggio che il protagonista fa alla ricerca di se stesso e nello stesso tempo diventa una grande metafora su quella che è la condizione umana e quindi volevo chiederti da dove nasce l'esigenza di raccontare una storia così forte e così bella grazie a tutti 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 l'idea del film in realtà è tratta dalla mia vita dalla mia vita e dalla vita anche di chi mi circonda mi sono posto molte domande e ovviamente incontrando tutti gli elementi, l'acqua, la terra, il vento, il fuoco mi sono chiesto cosa centrano questi elementi con me e cosa centro io con questi elementi e la risposta che ho trovato è stata qualcosa di simile a questi elementi stessi quindi un elemento contiene tutto il resto e così ho incominciato anche a leggere poesie sono arrivato prima al tema della donna, poi al tema del vino, poi al tema del suono è anche una figura come la rana, per esempio la rana ha degli strani cambiamenti sappiamo che è una creatura anfibia che muta, in poco tempo parte dall'acqua, raggiunge la terra e ritorna in acqua e produce anche un suono che trovo interessante, almeno per me e infine c'è una cosa che ha un po' radunanza in sé tutte le caratteristiche dei quattro elementi, ossia il bacio allora il protagonista del film che vedrete di mestiere, di lavoro, registra i suoni della natura registra le voci di uomini e di donne, in particolar modo di una donna che ricorrerà e di un uomo che ricorrerà e che da un punto di vista metaforico assume un significato molto molto forte al centro del film quindi c'è un tema molto importante oggigiorno che è il tema dell'ascolto l'ascolto in particolar modo degli altri quindi lui lo fa di lavoro ma nello stesso tempo come dire riceve molto in termini di ascolto e diventa quindi in qualche modo l'ascolto degli altri la chiave per cambiare se stessi volevo chiederti appunto una riflessione su questo concetto se è stata la base appunto del tuo lavoro che ti ha guidato nel film grazie come starete sentendo il nostro regista parla in farsi quindi è anche bello solo ascoltarlo secondo me adesso traduco le sue parole quindi non si tratta solo di ascoltare gli altri si tratta di ascoltare tutto tutte le voci e naturalmente anche ascoltare se stessi come funziona il processo di ascolto ci deve essere una voce il suono è un elemento che a prima vista quest'uomo vende raccoglie i suoni per venderli ma in realtà scusate convive con i suoni tanto che a volte li compra anche io vengo da una cultura che è piena intrisa di poesia ed è la poesia che trasmette pure emozione è la poesia che deve essere trasformata in suono per trasmetterla agli altri se la voce diventa ripetizione non potrà più essere in grado di trasmettere questa poesia soggiacente quindi per prevenire questa catastrofe dobbiamo prestare uguale attenzione sia al suono come dicevi sia anche al silenzio quindi forse è meglio ritoccare un po' la domanda a monte e chiedere ascoltare un suono insieme alla comprensione del silenzio è questo che fa la differenza? io in quel caso ti risponderei di sì bene assolutamente e giustamente il regista racconta di come la cultura da cui proviene è una cultura fortemente poetica e credo che il film che state per andare a vedere lo abbia anche in termini di immaginario una grande poesia allora l'ultima cosa che volevo chiedere riguarda proprio la messa in scena la costruzione dell'immagine di quello che è il film ovvero un grande rigore geometrico e a tratti come dire uno sguardo che sembra quasi pittorico sembra di costruire quasi dei tableau vivant quasi come se il protagonista si muovesse talvolta davvero in dei dipinti in movimento quindi volevo chiedere da questo punto di vista quale immaginario a quale immaginario si è ispirato per costruire un film che veramente ha una grande carica di poetica in termini di immagine? al sciere mi chiedevo che il risultato è che il risultato sia come un sciere e il risultato sia come un poesia che in un sciere il risultato sia come un sciere e il risultato è che il risultato sia come un sciere ma il risultato sia come un sciere il risultato sia come un sciere e il risultato sia come un sciere ma il risultato sia come un sciere ma parlare di poesia non è mai facile la poesia viene prima delle parole ancora prima non è ancora suono è qualcosa che poi viene suonato viene espresso tramite suono e se quel suono ha la stessa melodia della poesia stessa allora diventa una fantasia e le immagini del film dovevano essere registrate proprio nella stessa forma anche a livello formale dovevano rispondere essere come una traduzione in immagini in suoni di quella fantasia e quindi in questo caso è stato il soggetto stesso a dirvi anche cosa fare grazie grazie Mehdi per essere stato qui questa sera a presentare Okopoe noi che lo abbiamo selezionato lo abbiamo veramente amato molto speriamo che anche il pubblico possa apprezzarlo e prima di salutarti il festival vuole omaggiarti con quella che raffigura proprio il castello dove siamo che è l'icona del festival quindi grazie